Lo sperone di roccia. Quando arrivarono nei cantieri, Nebes non aspettò nemmeno che suo fratello fermasse la barca. Saltò giù e corse più veloce che poteva e intanto cercava suo padre con gli occhi. C'erano molte persone, scalpellini, artigiani di tutti i tipi, trasportatori di pietre e sorvidententi che analizzavano i progetti e Nebes non riusciva a vedere Capra da nessuna parte. «Dov'è il re?» urlò. «Portatemi dal re subito!» Menkaura lo raggiunse, lo prese per le spalle e lo fece voltare. «Eccolo il re! È là! Sotto quel baldacchino! Vedi?» Nebes si mise a correre e continuava a urlare. «Come un pazzo!» Menkaura lo seguiva a grandi passi per stargli dietro. Quando li vide arrivare con Nebes che lo chiamava a gran voce, Capra si alzò, infuriato. E dire infuriato è dire molto, ma molto poco. Ankaf fece per precederlo, ma lui lo fermò con un gesto secco della mano. Capra indossava il menes, la corona con il copero al centro, un colore d'oro con pietre turchesi e verdi e uno scendito immacolato, nonostante la polvere del cantiere. «Sei impazzito? Ma come sei conciato? E perché un ri come un pazzo ti sembra il modo di presentarsi davanti al re, davanti ai miei architetti, ai miei consiglieri, al mio popolo?» «Poi guardò Menkaura. E tu, che sei più grande, dovresti avere un po' più di cuore. Per gli egizi la sede dell'intelligenza è nel cuore, non nel cervello. Non potevi calmarlo tu, invece di portarmelo qui, in queste condizioni? Che non sembra neanche un principe figlio del re!» Menkaura Rossi cercò di balbettare qualcosa, per scusarsi, ma Nebes lo interruppe, per presecafra permane e cercò di trascinarlo. Ma Craffara non si mosse, si liberò dalla mano del figlio. «Che cosa pensi di fare? Sei proprio un bambino, vai a casa immediatamente! Quando avrò finito qui e quando avrò risolto tutte le altre questioni che devo affrontare oggi, se non sei troppo stanco, parleremo!» Menkaura presa Nebes per un braccio e cercò di trascinarlo via. «Andiamo, su! Te l'avevo detto! Non dirmi che non ti avevo avvertito! Credo che si metta male per te, fratellino! Non l'ho mai visto così, te lo giuro!» Menkaura lo tirava per la spalla, ma neanche Nebes si mosse. Si liberò dalla presa di suo fratello e rincorse Cafra che stava tornando a grandi passi verso il baldacchino. «Padre!» chiamò Nebes. Cafra non si girò. «Figlio di Ra, sovrano delle due terre!» Gli egizi chiamavano il loro paese Tawi, le due terre che erano la terra fertile vicino al nile a quella rossa del deserto. «Fermati! Non devo parlare con mio padre! Devo parlare con il re! Solo con il re! Ora, ora, ora o mai più!» Cafra non si girò, ma smise di camminare. Poi, come spinto da qualcosa che nemmeno lui era capace di spiegarsi, fece quello che mai avrebbe pensato di fare. Tornò verso Nebes e gli disse «Ti ascolto, principe Nebemahet! Il re ti ascolta! Il re è a tua disposizione! Mentre tutte quelle persone lo aspettano per decisioni molto importanti! Dimmi! Sono tutte orecchie! «Padre, scusami se sono arrivato qui così! Le scuse tienile per dopo a casa! Ora parla! No, o non presentarmi mai più davanti a me!» «Va bene, parlo padre! Anzi, parlo non a mio padre, ma al re! L'ho visto, l'ho sognato, lo so! Io lo so! Che cosa devi fare? Che cosa devo fare qualcosa? Ma di che parli? Che cosa hai visto? Il volto del re era sempre più teso! Nebes non l'aveva mai visto così arrabbiato! Almeno non con lui, né con i suoi fratelli o le sue sorelle! Lo sperone di roccia! Siete qui per questo, no? E tu come lo sai che sei chiuso con i dottori, dietro a quel cucciolo di leone da tre giorni? Cafre era stupito! «Lo so, perché l'ho visto! In sogno! Ti prego, padre, ti prego, vieni con me! Un momento solo! Solo un momento! Poi inizierò l'addestramento militare e farò tutto quello che vuoi tu! Giura! Ci puoi scommettere che farai tutto quello che voglio io!» Cafre è ancora molto arrabbiato, ma c'era qualcosa in Nebes, forse la luce che aveva negli occhi l'intensità, forse l'energia nel suo sguardo, che lo calmava, anche in quel momento in cui avresse strozzato qualunque altra persona avesse avuto davanti. Fine decima parte Grazie! Grazie!